Io ti faccio una domanda qua che è un po' domanda veramente, è una domanda da cavallo L'avena, che è una cosa, tanti dicono che realmente per i cavalli l'avena è fondamentale L'avena è un alimento che fa bene, sì Sì, fa bene, infatti è quello che dicevo anche prima, mangiare queste farine diverse che non siano la farina raffinata di grano duro, grano tenero è un'ottima cosa perché si traggono anche degli alimenti, delle sostanze che non conservavamo più e si scoprono anche degli alimenti che venivano un pochino accantonati ultimamente quindi c'è un po' un ritorno all'alimentazione diciamo antica, che poi era la più sana L'alimentazione mediterranea alla fine è quella migliore